Resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi ed accertamenti. Sono queste le accuse che hanno fatto scattare le manette ai polsi di Marcos Antonio Cristiano, 37enne di origine brasiliana ma residente a Ceglie Messapica, fermato a Cisternino mentre era alla guida della sua auto dei carabinieri della stazione locale. L'uomo, alla vista dei militari dell'arma che gli avevano indicato di fermarsi, ha tentato di fuggire accelerando. I carabinieri si sono poi dati all'inseguimento e poco dopo il fuggitivo è stato bloccato da una pattuglia. Una volta uscito dalla sua auto, i militari hanno notato che il 37enne era in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'alcol. In più, appena gli hanno chiesto le generalità, si è scagliato contro di loro tirando un calcio ad uno dei militari e provando questa volta a fuggire a piedi, non riuscendoci. Trasportato in caserma, dopo le formalità diritto, è stato trasferito nella casa circondariale di Brindisi su disposizione dell'autorità giudiziaria competente.